il dolce sonno o l'addormentatrice la senna si stendeva davanti alla mia casa senza una ruga verniciata dal sole del mattino era una bella larga lenta distesa d'argento fuso qua e là chiazzata di porpora dall'altra parte del fiume grandi alberi schierati componevano lungo tutta la sponda una verde muraglia la sensazione della vita che ricomincia ogni giorno della vita fresca gaia amorosa fremeva tra le foglie palpitava nell'aria e vibrava sull'acqua presi i giornali che il postino aveva portato proprio allora e me ne andai a passi lenti sulla riva per leggerli nel primo capri trovai queste parole statistiche dei suicidi e seppi che in quell'epoca più di 8500 uomini si erano uccisi li vidi subito vidi quel massacro orrido e volontario di disperati stanchi di vivere vidi uomini sanguinanti la macella sfracellata il cranio sbriciolato il cuore traversato da un proiettile che agonizzavano lentamente soli in una cameretta d'albergo dimentichi della loro ferita col pensiero fisso alla propria infelicità ne vidi altri la gola tagliata o il ventre sguarciato che reggevano ancora in mano il coltello da cucina o il rasoio ne vidi altri seduti davanti a un bicchiere nel quale sono immersi dei fiammiferi o davanti a una fiale con l'etichetta rossa guardavano quegli oggetti con occhi fissi senza muoversi poi bevevano poi aspettavano poi una smorfia incavava le loro guance torceva le loro labbra lo spavento stralunava i loro occhi perché essi non sapevano che si soffre tanto prima della fine si alzavano si fermavano cadevano a terra si comprimevano il ventre con ambo le mani si sentivano gli organiarsi i visceri rossi dal fuoco del veleno prima che il loro pensiero fosse soltanto oscurato altri ne vidi impiccati a un gancio del muro alla spagnoletta della finestra un anello del soffitto a una trave del solaio al ramo di un albero sotto la pioggia della sera e indovinavo tutto quello che avevano fatto prima di trovarsi là immobili con la lingua penzoloni indovinavo la loro angoscia loro ultime esitazioni i loro movimenti per legare la corda per provare se reggeva bene e li vedevo passarsela intorno al collo e lasciarsi cadere ne vidi altri colicati su squalli di letti madri con i loro figlioletti vecchi morenti di fame ragazze straziate da pene d'amore irrigiditi soffocati asfissiati mentre in mezzo alla camera fumava ancora un bracere e ne vidi che passeggiavano nella notte sui ponti deserti erano i più tetri l'acqua scorreva sotto le arcate con un rumore fiacco non la vedevano la indovinavano aspirando il suo odore gelido la desideravano e la temevano non avevano coraggio le ore suonavano lontano da qualche campanile e improvvisamente nel vasto silenzio delle tenebre si udivano presto soffocati il tonfo di un corpo nel fiume qualche grido uno sciacquio d'acqua battuta con le mani a volte non si udiva se non il pluff della loro caduta quando si erano legati le braccia o si erano attaccati un sasso ai piedi povera gente povera gente come ho sentito la loro angoscia come sono morto della loro morte ho traversato tutte le loro miserie ho sofferto in un'ora tutte le loro torture ho conosciuto tutti i dolori che li hanno portati a quella terribile meta perché nessuno quanto me sente l'infamia ingannatrice della vita come li ho capiti coloro che deboli perseguitati dalla sfortuna abbandonati dai loro cari tratti dal sogno di una tardiva ricompensa dall'illusione di un altra esistenza nelle quale dio finalmente diverrebbe giusto da può essere stato crudele disincannati dai miraggi della felicità non aspettano più nulla e vogliono mettere fine a questo perpetuo dramma a questa commedia vergognosa il suicidio ma è la forza di coloro che hanno più forza la speranza di coloro che non sperano più è il sublime coraggio dei vinti sì c'è almeno una porta in questa vita ma possiamo aprire quando vogliamo e passare dall'altra parte la natura ha fatto un gesto di pietà non c'è imprigionati grazie per i disperati quanto ai semplici delusi continuino pure la loro strada l'anima libera il cuore in pace e se non hanno nulla da temere perché possono andarsene perché dietro a loro c'è sempre qualche porta che gli dei sognati non possono neanche chiudere pensavo a quella folla di morti volontari più di 8500 in un anno e mi sembrava che si fossero riuniti per rivolgere al mondo una preghiera per formulare un desiderio per chiedere qualcosa da attuare più tardi quando si capirà meglio mi pareva che tutti quei suppliziati quegli esgozzati quegli avvelenati quegli impiccati quegli asfissiati quegli annegati se ne venissero orda spaventosa come cittadini che si recano a votare a dire alla società concedeteci almeno una morte quieta aiutateci a morire voi che non ci avete aiutato a vivere vedete noi siamo tanti abbiamo il diritto di parlare in questi giorni di libertà di indipendenza filosofica e di suffragio popolare fate a coloro che rinunciano alla vita l'elemosina della morte che non sia né ripugnante né spaventosa cominciai ad avere incubi il mio pensiero collegava quelle morti a fantasticherie strane e misteriose mi parve di essere un tratto in una bella città era parigi ma in quale epoca camminavo per le strade guardando le case i teatri gli edifici pubblici ed ecco in una piazza vidi un grande edificio molto elegante civettuolo e grazioso stupì perché sulla facciata era scritto a lettere d'oro opera della morte volontaria o stranezza dei sogni fatti da svegli quando lo spirito spicca il volo in un mondo irreale possibile niente stupisce niente urta e la fantasia sbrigliata non distingue più il comico dal lugubre avvicinai a quell'edificio alcuni valletti in calzoni corti erano seduti nel vestibolo davanti al guardaroba come nell'entrata di un circolo entrai per vedere uno dei valletti si alzò e mi domandò desiderate signore desidero sapere cos'è questo luogo nient'altro no davvero allora volete che vi accompagni dal segretario dell'opera esitavo domandai ancora ma non disturberò o no signore egli è qui per ricevere le persone che desiderano informazioni andiamo mi seguo mi face attraversare dei corridoi dove alcuni vecchi signori conversavano poi mi introdusse in un bello studio un po' scuro ammobiliato in legno nero un giovanotto grasso panciuto scriveva una lettera fumando un sigaro il cui aroma mi rivelò la sua eccellente qualità si alzò ci salutammo e quando il valletto se ne fu andato domandò in che posso servirle scusi la mia indiscrezione gli risposi non avevo mai veduto questo edificio le parole scritte sulla facciata mi hanno meravigliato assai desidererai sapere ciò che ci fa qui sorrise prima di rispondere poi sottovoce con aria soddisfatta oddio signore uccidiamo coloro che desiderano morire pulitamente dolcemente o sarei quasi tira gradevolmente non fui troppo turbato perché la cosa mi parve veramente naturale e giusta ero soprattutto stupito che su questo pianeta dominato da idee basse utilitarie umanitarie egoiste e coercitive di ogni vera libertà si fosse riusciti ad attuare una simile impresa degna di una umanità emancipata soggiunse come ci siete riusciti il giovanotto grasso rispose signore il numero dei suicidi è talmente accresciuto negli ultimi cinque anni dopo l'esposizione universale del 1889 che è diventato urgente provvedere la gente si uccideva nelle strade nelle feste nei ristoranti a teatro nei treni nei ricevimenti del presidente della repubblica dappertutto non era soltanto un brutto spettacolo per coloro che amano vivere bene come me ma anche un cattivo esempio per l'infanzia è stato necessario perciò centralizzare i suicidi quale la ragione di questa recrudescenza non lo so in fondo credo che il mondo invecchi si comincia a veder chiaro e si accetta male la propria sorte oggi il destino è come il governo si sa di che si tratta si constata che si è infinocchiati dappertutto e si tira via quando si riesce a riconoscere che la provvidenza mente truffa ruba inganna gli uomini come un semplice deputato ai suoi elettori ci si irrita e poiché non se ne può nominare un'altra ogni tre mesi come facciamo con i nostri rappresentanti nel parlamento si abbandona questo luogo veramente troppo inospitale davvero io per me non mi lamento mi vuole dire come funziona la vostra opera volentieri dai può d'altronde farne parte quando le piacerà è un circolo un circolo si signore fondato dagli uomini più eminenti del paese dalle menti più elette dalle personalità più in vista aggiunse ridendo di cuore e le assicuro che ci si sta benissimo qui sì qui lei mi sbalordisce oddio ci si sta molto bene perché i membri del circolo non hanno paura della morte che rovina tutte le gioie della vita ma allora perché sono membri di questo circolo se non si ammazzano si può essere membri del circolo senza avere l'obbligo di ammazzarsi ma allora mi spiego davanti al numero smisuratamente crescente di suicidi davanti all'orrido spettacolo che si danno si è formata una società di pura beneficenza protettrice dei disperati che ha messo a loro disposizione una morte calma e senza dolore sebbene non imprevista chi mai ha potuto autorizzare un simile istituto il generale bolanger durante la sua breve permanenza al potere egli non sapeva rifiutare egli non sapeva rifiutare nulla del resto non ha fatto che questo di buono dunque si è formata una società di uomini chiaroveggenti delusi scettici che hanno voluto costituire in piano centro di parigi una specie di tempio del disprezzo della morte in principio questa casa fu temuta e nessuno si voleva avvicinare allora i fondatori che vi si riunivano organizzarono una grande serata di inaugurazione con sarah bernard judy théo granier e tanti altri deresk coquelin munessalli paulus eccetera poi dei concerti delle commedie di dumas di mailac di alvi di sardù abbiamo fatto un solo fiasco un lavoro di bec che è sembrato triste ma che in seguito ha avuto un grandissimo successo alla commedie françoise insomma tutta parigi è venuta diventò di moda in mezzo alle feste che burla macabra niente affatto non è necessario che la morte sia triste bisogna che sia indifferente noi l'abbiamo resa gaia l'abbiamo infiorata l'abbiamo profumata l'abbiamo resa facile si impara a soccorrere con un esempio come vedrà la morte non è nulla capisco che la gente sia venuta per i festeggiamenti ma poi è venuta per lei non subito si diffidava e più tardi sono venuti molti in massa ne abbiamo più di 40 al giorno non si pescano quasi più annegati nella senna un membro del circolo un cattolico non credo un annoiato uno squattrinato che in tre mesi aveva perduto somme enormi al baccarà davvero il secondo è stato un inglese un eccentrico allora abbiamo fatto della pubblicità sui giornali abbiamo spiegato il nostro metodo abbiamo inventato alcuni tipi di morte suscettibili di attirare ma l'affluenza di massa l'abbiamo coi poveracci come operate vuole visitare il circolo intanto le spiegherò certo preso il cappello aprì la porta mi fece entrare in una sala da gioco dove alcuni uomini giocavano come si gioca in qualsiasi visca attraverso quindi diversi saloni vi si chiacchierava animatamente allegramente di rado avevo veduto un circolo così vivo così animato così allegro poiché manifestavo una certa quale meraviglia riprese a dire il segretario la nostra casa un successo inaudito tutta la gente elegante del mondo intero ne fa parte per mostrare che disprezza la morte poi quando sono qui si credono obbligati a mostrarsi allegri per non sembrare spaventati poi si divertono ridono scherzano fanno gli spiritosi e riescono a diventarlo certamente oggi è il circolo meglio frequentato più divertente di parigi anche le donne cercano in questo modo di creare una sezione per loro e malgrado ciò avete molti suicidi nella vostra casa come le ho detto circa 40 o 50 al giorno i uomini di mondo sono rari ma i poveri diavoli abbondano anche la classe media dà una buona percentuale e come fate per asfissia una asfissia dolcissima con quale procedimento un gas di nostra invenzione brevettato dall'altra parte della casa ci sono le entrate per il pubblico tre piccole porte che danno su viuzze quando un uomo una donna si presentano si comincia con l'interrogarli poi offriamo soccorso aiuti protezioni se il cliente accetta facciamo un'inchiesta e in questo modo ne abbiamo salvati parecchi dove trovate il denaro ne abbiamo molto la quota dei soci è molto alta poi è diventato di moda fare delle donazioni alla nostra casa i nomi degli offerenti sono pubblicati nel figaro e ogni suicidio di un uomo ricco costa mille franchi costoro muoiono in posa i suicidi dei poveri sono gratuiti come riconoscete che sono poveri caro signore se ne accorgiamo a prima vista e poi devono portarci un certificato di povertà rilasciato dal commissario di polizia del loro quartiere sarei sapesse com'è lugubre il loro ingresso in questa casa ho visitato una volta sola quella parte del nostro stabilimento ma non ci tornerò mai più il locale è uguale a questo quasi altrettanto lussuoso e confortevole ma loro loro se lei li vedesse arrivare vecchi cenciosi che vengono a morire gente che crepa di miseria da mesi e mesi nutrita ai cantoni delle strade come cani randagi donne coperte di stracci scarnite malate paralizzate incapaci di procurarsi da vivere e che dicono dopo averci raccontato la loro storia capite bene che non è possibile continuare perché non posso più fare nulla per guadagnare nulla io ne vidi arrivare una prima di 87 anni che aveva perso tutti i figli e i nipoti e che da sei settimane dormiva all'aperto sono stato male per la pena poi abbiamo tanti casi diversi senza contare coloro che non dicono niente e semplicemente domandano dov'è allora li facciamo entrare e la faccenda è sbrigata in un baleno dissi a mia volta con una stretta al cuore e dov'è qui aprì una porta e aggiunse entri è il reparto riservato ai soci del circolo quello che funziona di meno abbiamo avuto finora solo 11 annientamenti ah voi chiamate ciò un annientamento sì signore entri ero incerto infine entrai era un piacere piacevolissimo locale una specie di serra dove vetrate di un azzurro pallido di un rosa tenero di un verde sbiadito si alternavano con grazia degli arazzi c'erano in quel grazioso salotto divani palme sontuose fiori o lezzanti rose soprattutto libri sui tavoli e la revide du mon e ciò che mi sorprese delle pasticche di vichy in una scatola perché me ne mostravo meravigliato vengono spesso a conversare qui disse la mia guida le sale per il pubblico continuò sono come questa ma mobiliate più semplicemente indicò col dito una poltrona a sdraio coperta di crespo di cina color crema a ricami bianchi sotto una grande pianta di specie ignota intorno alla quale si arrotondava una piccola aiola di reseda con voce più bassa il segretario aggiunse si cambia volontà il fiore e il profumo perché il nostro gas del tutto impercettibile dà alla morte il profumo del fiore preferito lo vaporizziamo mischiandolo a essenze vuole aspirarlo per un secondo grazie gli dissi reagendo non ancora si mise a ridere signore non c'è nessun pericolo l'ho provato io stesso più di una volta per non passare da vigliacco dissi volentieri si stenda sulla dormentatrice un po' preoccupato mi sedetti sulla poltrona coperta di crespo di cina stesi le gambe quasi subito fui avvolto da un delizioso profumo di reseda aprì la bocca per aspirarlo meglio perché la mia mente già si intorpidiva dimenticava assaporava nel primo turbamento dell'asfissia le bellezza affascinante di un oppio incantatore fulminante fui scosso per le braccia signore diceva ridendo il segretario mi sembra che lei si lasci prendere dal dolce sonno ma una voce una vera voce e non quella delle fantasticherie mi salutava con accento campagnolo buongiorno come va il sogno era finito vidi la senna chiara sotto il sole e la guardia campestre del paese che arrivava da un sentiero e alzava la destra in segno di saluto al suo berretto nero gallonato d'argento o risposi buongiorno marinelle dove ve ne andate a fare un sopralluogo un annegato che hanno ripescato presso il morillon un altro ancora che si è buttato in acqua si era anche tolto i calzoni per legarsi le gambe